Con lo sbarco in Sicilia si creò un nuovo fronte e la guerra attraversò tutto il territorio italiano, paese per paese, città per città. La fanteria, l'artiglieria, i mezzi corazzati furono impegnati in cruenti combattimenti nelle strade dei centri abitati. Se le autorità cittadine, civili o militari, non andavano ad offrire la resa, la guerra avanzava dalle periferie fino ai centri storici. Soltanto nel Veneto, durante la Prima Guerra Mondiale, le popolazioni provarono qualcosa di simile. Era per gli italiani un'esperienza radicalmente nuova. Il 17 agosto, verso le 9 del mattino, i primi reparti della Terza Divisione Americana entrarono a Messina. In quel momento, gli ultimi soldati tedeschi si allontanavano dalla spiaggia di Paradiso. Il generale Patton, comandante della settima armata americana, appena giunto a Messina, diramò un comunicato. Messina è stata occupata dalle truppe americane. Essi hanno già in saldo possesso la zona del porto e stanno conquistando il centro della città. Il colonnello Tomasello, comandante della contraerea, fu raggiunto da alcuni emissari degli americani e fu invitato ad arrendersi. A bordo della Topolino, a disposizione del suo comando, si recò a trattare la resa. Più tardi, a guerra finita, rilasciò una testimonianza che smentisce il proclama del generale Patton. A Colle San Rizzuto, dichiarò il colonnello Tomasello, mi attendeva il generale Truscott. Truscott mi strinse calorosamente la mano e mi disse, mi dispiace per lei, le guerre sono fatte così, c'è chi vince e c'è chi perde, ha perduto lei e io non posso che ramaricarmi. Io risposi, dice appunto il colonnello Tomasello, soltanto io devo ramaricarmi e non lei che invece ha vinto. Il generale mi sottopose per la firma un foglio già compilato in cui si compendiava l'atto di resa della città di Messina. Io mi rifiutai di firmare, dice il colonnello Tomasello, richiamandomi al regolamento militare secondo il quale, essendo la piazza di Messina caduta senza combattimenti, non c'era alcuna resa da firmare. In Sicilia, al momento dello sbarco, c'erano circa 230.000 soldati italiani. Di questi, circa 95.000 si dispersero e si sbandarono. Nelle città italiane iniziarono a quel punto a diventare frequenti scene come questa, che è stata ripresa a Messina da un cameraman americano. La guerra, con i bombardamenti e l'avanzare del fronte, colpiva duramente tutte le città e tutti i centri abitati, grandi o piccoli, che erano collocati in una posizione strategica o che avevano nel proprio territorio installazioni militari, fabbriche o depositi. Soltanto qualche piccolo centro, che fortunatamente non si trovava in posizione strategica e non aveva funzioni militari di alcun tipo, veniva parzialmente risparmiato dalla violenza delle battaglie. Potevano allora accadere scene come questa, filmata e un poco sceneggiata, da un cameraman americano il 9 agosto 1943 a Sant'Angelo di Brolo, in provincia di Messina. Lo sbarco alleati in Sicilia aveva riportato nell'isola molti emigrati italiani, diventati cittadini americani a tutti gli effetti e quindi soldati degli Stati Uniti d'America. In questo caso la guerra arriva nel piccolo paese con le immagini di un giovane italo-americano che si reca ad abbracciare la madre e i parenti rimasti in Sicilia. in Sicilia, in sicilia, in sicilia. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Parma. l'ordine. a tutti. 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 a tutti.